Mi sono molto arrabbiato di tre spogliatoi, proprio di questo, stiamo giocando bene e stiamo perdendo. Non mi piace, era stato sbagliato l'approccio, perché le giocate c'erano e poi i due arrivati devono un pochetto ambientarsi sul nostro gioco. Poi nel stesso tempo siamo andati molto bene, grazie anche ai subentrati, ma io l'ho detto che ci siamo rafforzati, ci siamo anche migliorati in qualità. I nuovi arrivati hanno fatto una grandissima partita, due e due, ci sono virtuti, hanno fatto uno che dovevano fare e poi ha inventato Nonno Ferretti e ci ha fatto vedere come si calcia in foglia. Quando un giocatore fa un brother jagger, io poi vivo di emozioni, a me mi emoziona e quindi quando mi emoziono capisco poco. Sì, io ho sempre detto che voglio gli attaccanti che giocano dentro i balli, non voglio le punte e non fare i cross, le punte si diamano punto per cui devono fare il gol. Per più stanno vicino alla porta e più. Questo è il mio calcio. Poi siamo stati bravi in tutto, perché l'Omolino, Marcellu si ha messo una palla d'oro sul primo gol e Ghion è sprecato per questa categoria. Giovannini quando ho messo a tre quarti ci ha fatto vedere il vero Giovannini. Noi abbiamo tante soluzioni. Quando dico che l'avevo visto bene, questa settimana l'avevo visto bene. La paura mia era reggerarlo. Perché sa l'impatto emotivo, avevo paura degli infortuni, avevo paura di questo. Ma non ho mai temuto sotto l'aspetto del gioco, perché questa squadra è nata per giocare a calcio. Grazie a tutti.